L'isola maschile. Lago Chiemsee. Germania, 10 settembre 2017. Vi saluto, miei cari. Io sono Crayon del servizio magnetico. E quindi la maggior parte di voi è in piedi in un gruppo di alberi sull'isola maschile e tutti voi siete radicati. Infatti, continuando la precedente canalizzazione, potrebbe persino essere una buona idea l'abbracciare uno degli alberi, prima di lasciare l'isola. Questa canalizzazione su quest'isola sarà un breve discorso a proposito di un tipo di evoluzione che non vi aspettate. Ma prima di farlo, vi darò informazioni controverse riguardo una storia molto recente accaduta qui sull'isola. Questo sarà significativo, oppure no, principalmente per i bavaresi, perché parleremo del re. E il re di cui parleremo è Ludwig, Ludovico II, che costruì un castello su quest'isola. Ma aspettate. Fu Ludwig? È un castello francese. Perché un re bavarese ha costruito un castello francese su questa isola maschile? E la risposta? È che Ludwig era un po' confuso. Infatti, era molto confuso. La prima cosa che dovreste sapere è una cosa buona, ma non risaputa, che spiega un po' di Ludwig. Nella sua vita precedente era una donna. Perciò Ludwig arrivò come ottimo decoratore. Questo spiega un po', la bandiera sul suo castello sarebbe dovuta essere la bandiera arcobaleno-craionride. Ma non è tutto. Ecco quella grossa. L'anima di Ludwig era condivisa con Luigi e Ludwig era convinto che in una sua vita passata lui fosse Luigi di Francia, il re Luigi, quello che costruì Versailles. Verso il termine della sua vita cercò davvero di diventare Luigi. Perciò, voi penserete che ciò che lo distrusse fu il suo esoterismo. Lui era molto esoterico e condivise l'anima di un altro re. Tutto ciò è interessante, perché questo è il genere di cose che vengono ricordate più profondamente nei registri akashici. Se siete un grande leader, un leader saggio o no, di un qualsiasi tipo di associazione o paese, la memoria persiste, perché quello è il dramma che ricordate e non riguarda solo la leadership. Ci saranno molte altre cose che hanno creato un qualcosa di davvero energetico in una vita passata. Ma se eravate una regina o un re, questo porta davvero nella vostra vita quelle sensazioni. Ora, è interessante. Mentre osserviamo quest'isola maschile, stiamo parlando ad anime antiche, e ciò significa che ogni singola anime antica qui è stata entrambi i generi. Alcuni di voi potrebbero negarlo. Questo è il vostro pregiudizio. Ma voi siete stati entrambi i generi. E quindi questo dà il via alla spiegazione di ciò che deve arrivare. Se le anime antiche portano entrambi i generi, ripetutamente su questo pianeta, questo dovrebbe significare che c'è una grande comprensione e perciò che con quella comprensione voi avete una società molto migliore, uno stare insieme molto migliore, ma non è così. Se osservate ciò che questa Terra è diventata, il pianeta è un mondo di genere maschile. E quindi ciò che è accaduto nell'ultimo secolo è che l'equilibrio è stato sfidato e il genere femminile sta cominciando a realizzare che il pesante mondo maschile non è appropriato. Voglio che pensiate per un momento alla storia, a quando questo è accaduto in precedenza. E la risposta è che in realtà non è accaduto, non al livello in cui è successo nell'ultimo secolo. Questo stesso fatto è una forma di evoluzione, ma non è ciò che accadrà. Proprio adesso c'è ancora una battaglia per ciò che in molti chiamano parità tra i generi, specialmente nel mondo occidentale. Miei cari, vi dirò che cosa è possibile qui. Come lo dico? Uno spirito umano in evoluzione comincerà a ricordare com'era essere dell'altro genere. Donne, ascoltate. Uomini, ascoltate. Riuscite a immaginare quanto sarebbe molto più confortevole la vita, quanto la società sarebbe migliore, quanto sarebbero migliori il business e i governi, se voi aveste gli attributi, i forti attributi anche dell'altro genere, di modo che vi sia saggezza. Nelle relazioni oggi, alcune delle peggiori, questo è controverso, alcune delle peggiori sono tra le anime antiche, perché esse competono. Crayon ride. Non hanno una convergenza dello stare insieme, e ancora legato al genere. Ma competono, perché ricordano molto dell'altro genere. Perciò, come sarà l'evoluzione? La differenza è questa. Ricordare con saggezza, ricordare con compassione e, quando allora entrate in una relazione, non c'è alcuna competizione. Piuttosto, c'è coerenza. Uno ricorda l'altro e anticipa ciò di cui l'altro ha bisogno. Nella società, riuscite a credere che arriverà il tempo in cui non ci sarà alcuna specificità di genere? Sono semplicemente degli esseri umani che fanno una domanda di impiego, esseri umani che vanno al governo. Miei cari, questa è l'evoluzione dei generi. E chi la vedrà per primo sono le anime antiche, perché voi siete stati entrambi i generi, continuamente. E sarete i primi a risvegliarvi alla coerenza del sapere che cosa l'altro sta pensando e come possa essere. Gli uomini avranno una straordinaria affinità e comprensione della nascita dei bambini. Loro sapranno. La loro compassione sarà ovvia, potrebbero persino avere i dolori della donna. La convergenza insieme sarà qualcosa di nuovo e sarà notata nella natura umana. Le donne comprenderanno le tematiche, le paure e le ansie di ciò che l'uomo attraversa, per cercare di provvedere alla famiglia nel modo in cui hanno fatto gli uomini. E insieme voi avrete una saggezza che non crea più separazione. Sì. Maschi e femmine saranno sempre maschi e femmine, ai fini della procreazione, ovviamente. Ma riuscite a immaginare una similarità di pensiero, una gentilezza. Miei cari, questo è un qualcosa che le persone hanno sognato. Un incontrarsi che sia compassionevole e non competitivo, in cui non ci sia alcuna separazione indotta su chi fa che cosa e perché, in cui la storia non ha importanza. Voi fate semplicemente le cose che vi aiutano l'un l'altro. Il governo cambierà e anche questo sarà ovvio. Proprio questa nazione sta partecipando a quel particolare attributo, un attributo che non è ancora accaduto in altre parti del mondo occidentale. La realizzazione che il genere non ha importanza. La saggezza conta. L'intelligenza. L'umanesimo. Così come dovrebbe. Perciò è lì l'evoluzione della natura umana e le anime antiche hanno l'esperienza per fare questo lavoro per prime. Quindi, forse arriverà il giorno in cui questa non sarà più l'isola maschile, ma solo nella storia sarà considerata come l'isola maschile e questa è l'evoluzione dell'umanità. E così è.